Quanto tempo che dovevamo venire qui Sì, è vero, è vero, parecchio, parecchio L'hanno due anni? Sì, l'avevamo messo in lista due anni fa Le nostre liste infinite La gelosi ha visto la polenta Sì, ha visto la polenta Però ci sono un sacco di cose, quindi la scelta è dura È dura? Sì Non volendo abbiamo preso le stesse cose Perché non volendo abbiamo preso le stesse cose Non volendo La gelosi ha esattamente letto nella mia mente Quello che oggi avrei preso È capitato Quindi, anche pasto di pesce E taglio limini ai frutti di mare Perché i tagliolini li fanno loro Quindi ho detto assolutamente sì Sì, di questo mare qui Sì Questo qua Vedete? Esatto E a seguire due calici di vino bianchi Fermo 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 o Porto San Giorgio, scusa? Porto San Giorgio Porto San Giorgio Buonissimo Ok La nostra associazione lì La nostra casa Grazie a voi Grazie a voi Andare a mente Belli Si parlava di Deltaplan Si parlava di palloni Mongolfiere Si parlava di Mongolfiere E tutte le cose che l'officina fotografica farà Allora, ci dai qualche anticipazione? E abbiamo un paio di cose Per prima di fare scaletta Vediamo di riuscire Quindi abbiamo la Mongolfiere da una parte La Mongolfiere Vediamo come creare il video Come creare proprio tutto il discorso Stiamo penizzando Stiamo sentendo Io sto sentendo Vi fidate della gelosi? Spero di sì ragazzi Ce la metto tutti Caffè preso? Baci assortiti Baci assortiti Ciao Ciao Spero di sì ragazzi Spero di sì ragazzi